Si intitola Mani, lo spettacolo che andrà in scena questa sera nel Teatro Orfeo di Taranto per raccogliere fondi da devolvere al reparto di pediatria e oncoematologia del Santissima Annunziata. A volerlo è stato fra Vincenzo Chirico, parroco della Chiesa di San Pasquale, il servizio. E' tra le parti del corpo più penalizzate dall'emergenza sanitaria. E' vietato sfiorarle, stringerle o usarle come ponte per raggiungere qualcuno da toccare, abbracciare e conoscere. Eppure sono il simbolo dell'aiuto e della cura, la stessa che nel corso della pandemia medici e infermieri hanno usato per salvare o consolare. Sono le mani che diventano il simbolo di uno spettacolo benefico in scena al Teatro Orfeo di Taranto. Una performance di danza contemporanea che intende esaltare la speranza attraverso corpi che si muovono secondo le regole dell'arte tersicorea. Lo spettacolo dei coreografi Federica Delle Rose e Paolo De Marianis è stato voluto da fra Vincenzo Chirico, parroco della Chiesa di San Pasquale. Il ricavato sarà destinato al reparto di oncoematologia pediatrica del Santissimo Annunziata di Taranto. L'esperienza parte dopo due anni di ascolto vissuti nella parrocchia come parroco qui a Taranto e dopo aver ascoltato per tanti anni famiglie che vivono il dramma della malattia, quest'anno abbiamo pensato di osare un po' di più e quindi vivere questa esperienza proprio attraverso il teatro. In platea i piccoli guerrieri, i pazienti del reparto che ogni giorno lottano senza sosta per avere un domani. A loro sono rivolte quelle mani che intendono dare soccorso anche a una città martoriata ma di immensa bellezza che soffre ma che sa farsi prossima. Vogliamo che l'amore continui, la beneficenza continui, il sostegno per queste famiglie sia sempre fondamentale e di aiuto per tutti.